Bene, è tutto anche per noi. Prossimo appuntamento con il Tg1, come di consueto, alle 13.30. Ci vediamo più tardi. Arrivederci. Una bontà più una bontà. Quanto fa? Tre, due! Bravo! Fa due bontà. Dalla natura più ricca, da noni due bontà. Frutta golosa, da tuffare a piacere in delizioso yogurt vanigliato. Da noni due bontà. La natura al meglio. Io vado pazza per l'erobica, perché ci sono un sacco di gente simpatica. Figurati che c'è un istruttore che quando mi saluta mi dà una carezzina e dice che ho una bella pelle. Mi chiama Persichella. Dav è fatto di sostanze detergenti neutre e di un quarto di crema idratante. Non secca la pelle come un normale sapone. Dav ha un profumo buonissimo e lascia la pelle liscia. E da oggi, Dav doccia crema. È nuovo. Sì, ora sono io che ho bisogno di coccole. Una brioche? Ma... Una bella nastrina calda, come appena fatta. Solo dall'alta qualità della pasta sfoglia nascono, sfoglia su sfoglia, le nastrine mulino bianco. Sempre morbide e fragranti per una colazione che profuma di brioche. Nastrine mulino bianco. Chi mangia sano trova la natura. Jean-Louis David, il creatore delle pettinature facili da vivere, ha inventato uno shampoo rivoluzionario formulato dai laboratoires Garnier Paris. Per voi ho creato il primo shampoo 3 in 1 Jean-Louis David. Tre prodotti in uno. Uno shampoo professionale, un trattamento balsamo e un effetto coiffin. Guardate che materia, che vitalità, capelli facili da mettere in forma e da rimettere in forma. Ritrovate in un solo gesto il mio risultato professionale. Shampoo 3 in 1 Jean-Louis David, garantito da Laboratoire Garnier Paris. Dai che ci siamo così. Mi sa che ci siamo adesso. No. Cos'è, cos'è? È la nuova Suzuki Baleno Vega. In casa Suzuki è nata una famiglia. Le mamme di prenatale sono molto esigenti. Per i bambini vogliono capi belli che resistano a lungo. Rossella Andena, direttore prodotto prenatale, ci dice come avere cura dei capi. Ma loro vestiti si lavano più spesso. Così anche il cotone di qualità come il nostro può fare i pallini. Per fortuna Dash aiuta a risolvere il problema. Noi l'abbiamo testato. Il bianco è straordinario. Il lavaggio dopo il lavaggio mantiene il cotone bello più a lungo. Sì, anche prenatale raccomanda Dash. Perché le mamme siano contente dei nostri capi, bambino dopo bambino. Dash. Più bianco non si può. Tonde nocciole croccanti e morbida crema racchiuse in tre curve di wafer leggero ritardo di cioccolato. Fatti un duplo e scoprirai che la vita non è piatta. Duplo nocciolato leggero. Segui l'onda del gusto. Fatti un duplo e scoprirai che la vita non è piatta.